ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video da oggi ci sarà il nostro con tutto il tutorial momento sponsor dove ringrazio gli amici di Eneba che permette la creazione di questo video dove potete andare su questo sito eneba.com slash it dove potete comprare le vostre steam key oppure la playstation key le playstation card i boni amazon i fortnite vbugs i fifa points oppure anche i mesi di spotify l'abbonamento a netflix oppure se volete comprare qualsiasi gioco ci sono anche i giochi economici a prezzi scontatissimi come questo doom eternal ragazzi a 14 euro e 10-15 euro vi comprate il gioco con paypal che è un ottimo acquisto e vi arriva tramite mail la vostra chiave in digitale dove potete riscattare su steam che poi oltre a questo ragazzi ci sono anche delle varie offerte dove potete vedere il prezzo migliore più basso ci sono anche altri giochi come l'fc25 dove potete riscattarlo anche su playstation store ve lo comprate tramite il sito di reneba ragazzi e supportate me e il canale e niente ora vi lascio al video ciao a tutti belli ciao a tutti 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 ciao a tutti